Una festa per tutti, un'occasione per rincontrarsi, per ricordare i vecchi tempi e per tifare, come sempre, per l'amato Lecce. In occasione della trasferta di Capitan Hulman de Compagna a Milano è stato inaugurato il Lecce Club Peppino Palaia, storico medico sociale del club di Via Colonnello Costadura. Insomma, un pezzo di storia dell'Unione Sportiva Lecce. L'ex responsabile dello staff medico giallorosso ha fatto parte, appunto, dello staff del Lecce per circa 40 anni. Pino adesso non ha più da tempo un ruolo all'interno della squadra e della società, ma è ancora molto amato dai tifosi ed è rimasto molto legato alla sua gente. L'iniziativa di dedicargli un Lecce Club è stata promossa da un gruppo di salentini trapiantati nel milanese, per lo più di Squinsano, coordinati dal presidente Nicola Panariti. All'attesa cerimonia di inaugurazione avvenuta ieri mattina al Cologno Stadium di Cologno Monzese, quadrante nord-est di Milano, hanno partecipato, tra gli altri, anche lo stesso dottor Palaia, il presidente dell'Unione Sportiva Lecce, Saverio Sticchi Damiani e la sua consorte Marina Darpe. Durante l'inaugurazione, dopo il consueto taglio del nastro, la mattinata è stata impreziosita dal grande show dei partizzo Salento, tra la gioia e i sorrisi dei presenti. Zonne e compagni, sulle note del famoso brano di Albano e Romina, ribattezzato Nostalgia Palaia, hanno fatto cantare proprio tutti, incluso il presidente Sticchi Damiani. Nostalgia, 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 palaia, che riprende proprio quando non vuoi. Grazie. 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 Grazie.